. Incidente nella serata di martedì 28 settembre intorno alle 20.30 sulla provinciale 460 in località San Martino Valperga. Una Fiat Punto prima serie, condotta da un pensionato, non ha fatto la rotatoria ed è andato dritto, prendendolo in una parte e finendo la sua corsa lateralmente con l'asse di una ruota spaccato. Sul posto sono intervenuti la croce rossa ai carabinieri. L'uomo, ferito in modo non grave, è stato trasportato all'ospedale di Ivrea. Gli accertamenti sono al vaglio dei carabinieri. La causa dell'incidente potrebbe essere stata la scarsa visibilità causata dall'ampione di illuminazione della rotatoria, spento già da qualche giorno. Grazie per la visione! Grazie per la visione!